Musica Questi scintillanti mosaici ci parlano della riviera Ligure, grazie all'opera di Roberto Bixio ci regalano la sensazione di essere in vacanza in una delle località balneari tipiche italiane. 134 metri di mosaico da un lato e l'altro della terrazza. La terrazza sul mare del Ponte 5 è l'essenza di Costa di Adema, 500 metri di passeggiata a cielo aperto da Poppa a Prua, la più lunga della flotta. Il bellissimo panorama con vista sul mare ci regala la sensazione di essere in vacanza sul litorale italiano. Sulla terrazza si affacciano anche i locali e i ristoranti del Ponte 5, come anche i Deor, dei veri e propri salottini riparati dal vento, un luogo ideale per assaporare un aperitivo o semplicemente ammirare l'incantevole luce del tramonto. Grazie a tutti!